Gigi su Peppe. Siete ma che ha finito fatto? Ha fatto stare con un pensiero. E noi ci vediamo l'ultima volta a pranzo d'anno a Nella. Cosa ricorda dove c'è il nome là? A me tipo una telefonata, mi distrassi un attimo, e dai ci visti chiù. C'è ti chiuso a fare una manata che si caceci. Siete ma come sono andate per l'elezione? Perché insomma sono stato poco picchiato che ricomincia il Peppe Night e non l'ho seguito. Bene ma non benissimo. Vabbè, moltissimo che ci sono contenti. Non tanto. Allora la verità è che tu sei uno politicamente non preparato però hai una bella presenza, i capelli allaccati in testa, devi essere sempre bellissima, acconciatissima, cioè si catturissima. Ma quando si aggiunge il Peppe, si bolla la cici. Però hai gagnato troppo a questa idea, cioè prima un'era amica, poi un'era amica. Mi ha fatto affezionare Sabina, ti dico tutte cose che io tenevo, diciamo, non mi devo dire, non ti voglio offendere, ma né la canna qua, né proprio così. Per il Peppe è buono, quello che sta con noi, quindi amici, quindi c'è buono, sarà buono. Per il Peppe è buono, e poi non era buono più una volta, diciamo, ma che si fa? E 5 stelle, bello e buono, io voglio tutte stelle a mezzo, e per chiudere, fatti riturre. Eh, ma poi, per fare il fatto buono, non è un'esame politica, perché quando uno pensa che non è atteso, cioè non è che non è atteso, però se da dire proprio buttare, cosa, gli fa guai, è meglio che le vado a mezzo. Ah, stai facendo il vecchio lavoro tuo, ma? Lo sai che il mio cognato è chiuscito a prendere una settimana scorsa, parla che dà la vista, c'è uno che mi chiamava il cicino che ha l'uco, con la tua bocca! Ah, stai facendo sempre lo stesso ramo, ma si chiude a migliorare, ok? Lo fio grossissimo per il bocca, è giusto, è giusto, la vita bisogna migliorare. Senti, ma a proposito di questo, io lunedì 14, ma, lunedì, comincio il Peppi Night, ti volevo invitare, ma non è che vuoi venire, perché noi teniamo un bar là, cioè, secondo me le bocchette si vengono, ma non è ripetano con un cammincino, perché lui è l'uco sulla fuori, rotevano gli altri strassi, e ora ci arriviamo con tutti i bocchetti di cicino. Ok, ci rimaniamo l'uco, 20 e 50, cominciamo, vieni verso il 7, se no quando i banniamo. Perfetto, cicino, oggi appena si sembra un'amica, cicino è sembra un'amica, sattemolo, è giusto.